eeeh bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video aggiornamento di fortnite assolutamente si ragazzi avete capito bene ci troviamo su fortnite è uscita la nuova stagione ragazzi di conseguenza io dico è il momento di andarla a vedere andiamola a vedere ragazzi mettiamo un po' di musica giusto per stare un pochettino chilling pass battaglia pass battaglia ragazzi appena uscito otteniamo subito il pass battaglia abbiamo 1250 vbac lo andiamo a comprare subito ragazzi devo essere sincero sono gasatissimo pass battaglia sbloccato scrivetemi nei commenti ragazzi qual è la vostra skin preferita di questa nuova season ok abbiamo riscattato questo andiamo a vedere le ricompense del pass battaglia ok iniziamo a riscattare magari un po' di vbac un po' di cose che non ci fanno schifo ok ci sono dei balletti nuovi molto carino questa skin ragazzi devo dire la verità super try harder mi piace tantissimo pagina numero 2 ok è un deltaplano spero che sia un deltaplano questa nuova skin ok qua abbiamo ok abbiamo lei ok a me sinceramente questa skin così non mi fanno impazzire molto molto a cartone animato ecco non mi piacciono molto bella questa ragazzi io spero che si potrà andare proprio come sulla moto tanta roba questa skin qua già vista e rivista vi dico la verità dopo vi faccio vedere che skin mi ricorda poco da dire stupenda vediamo ma carina ragazzi c'è una verità carina bella questa skin ok 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 una frattura che porta poi a questa cosa va bene sì l'evoluzione di quella skin che non mi fa proprio vabbè non cambia niente alla fine questo è un bel questo ragazzi è un deltaplano stupendo se è un deltaplano questo è stupendo va bene una skin alla deriva 2.0 ok ci può stare una skin molto banale attenzione perché abbiamo saltato un balletto ah ok va bene con quella lì possiamo fare tipo i trick evitare i colpi del cecchino molto carino potevano evitarlo potevano evitarlo tranquillamente ragazzi che brutto ok e siamo pronti ragazzi alla skin del livello 100 mettete un bel like ragazzi andiamo a vedere la skin del livello 100 ah aspettavo qualcosa di più sinceramente eh ma aspettavo qualcosina di più ma aspettavo qualcosina di più però va bene però va bene però va bene allora io direi io direi abbiamo riscattato la nuova skin quindi andiamoci subito a mettere la nuova skin eccola qua e la skin che è uscita l'altra volta ragazzi volevo dirvi è questa cioè è palesemente questa ragazzi quella del pass battaglia solo un pochettino più evoluta ma va bene ma va bene così andiamoci a mettere questa skin equipaggia ok e andiamo ok salvataggio rapido cosa vuol dire ah ce lo salva velocemente oh carino giuliana ok si chiama giuliana ragazzi va bene ok bella questa skin andiamo subito a provarla in game allora ragazzi vediamo un po' andiamo a vedere allora ragazzi andiamoci a buttare andiamoci a buttare andiamo in una nuova zona questa è completamente nuova andranno tutti lì ragazzi mi scuso se laggerà eccetera eccetera però come potete ben sapere eh ragazzi siamo nella nuova season di conseguenza tutto è nuovo tutto lagga eccetera eccetera devo essere sincero sono gasato perché per questa nuova stagione ok ovviamente tutto un copia in colla delle vecchie stagioni alla fine cioè la città che si collega così con questa strada raga questa strada qua mi ricorda troppo la strada ok del capitolo 2 e dove c'erano i supereroi ragazzi che c'era quella città molto carina devo essere sincero vabbò eh sì lagga un botto ok stiamo attenti dobbiamo stare molto attenti faccio tipo 100 fps raga ne faccio pochissimi però oddio c'è una moto super mega evoluta qua sotto ok guardate quella moto lì proviamo subito oddio guardate come guardate dove va ma dove va 19 19 19 craccato ok 19 19 dai che lo ammazzo questo dai dove sta peccato 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 lui cosa ci da allora salve no non ho più cosi si è zerato tutto raga mannaggia lo sapevo che dovevo sprecarli tutti nell'altra stagione va bene allora scrivetemi nei commenti tra l'altro qual è la vostra città preferita che così l'andremo poi magari in un prossimo video ad esplorare ma oddio questo cosa cavolo fa come ha fatto ad arrampicarsi così raga ok non voglio saperlo ok vorrei scappare da qua sinceramente vorrei visitare il più possibile la città senza essere magari ammazzato grazie ok qua c'è un pompa vedo no ho flashato un pompa non era un pompa ok qua c'è gente che cammina ti prego dammi un pompa no adesso le ceste danno i pompa magari uno diceva no ma non da più i pompa no no li danno i pompa oddio c'è gente qua oh apratemi no mannaggia il bro mi ha sparato ragazzi andiamo 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 allora ok vorrei rivisitare quella zona magari andiamo a visitare allora mega city l'abbiamo visitata qua ci sono i droni qua invece è una città completamente nuova andiamola a vedere dai ovviamente non lo edito questo video perché ve lo voglio far uscire subito voglio spingere di modo da essere uno dei primi a portarvi questo contenuto ho posticipato il video che uscirà domani perché domani dovevo uscire un video abbastanza carino su un nuovo gioco che sostituirà stumble guys posticipiamo quel video a lunedì barra martedì poi giovedì uscirà un altro video carino di minecraft insomma ci stiamo provando bello questo questa città ok hanno lendato tutti ok hanno lendato tutti meglio ma c'è la ma qua c'è la katana non ho capito qua c'è la katana perché sapete ragazzi la katana eccetera eccetera ok vorrei prendere questo e scappare ok non mi interessa di conquistare la città ok fatto uno questo qua ci stava laserando direi di scappare direi di scappare ragazzi ok prendiamo il pompa che pompa è questo oddio il pompa no ragazzi l'hanno rimesso l'hanno rimesso oddio OP OP questo pompa ragazzi però dobbiamo scappare però dobbiamo scappare abbiamo pochissima vita raga andiamo via andiamo via OP quel pompa ma dobbiamo scappare ok posizionato in un modo molto losco ah questa qua è un'acqua curativa bello ma ci dà anche shield vediamo se ci dà anche shield ragazzi vediamo no non ci dà shield non ci dà shield ok mi sa che hanno tolto un sacco di cose ok li vedo gente bello questo cecchino bello questo cecchino posizioniamoci qua per vedere con questo cecchino oh c'è anche il barret come cecchino pesante come cecchino ragazzi andiamo quatti quatti sicuramente qua ci sarà qualcuno che fa il bro con il barret ma posso nascondermi io qua in mezzo no ok sicuramente daranno un sacco di materiale bel drop qua sopra hanno messo la bolla a scudo carina lì c'è gente che si spara ok direi di andare a vedere subito la gente che si spara buone le perk vediamo se ci sono perk nuove sovra sovra più schiaffoso troverai un succo schiaffoso aggiuntivo in ogni forzina del tesoro che apri vado alla vecchia raga mano lesta qua come si entra cioè non posso entrare da qua cioè devo rompere per forza ah oh comunque qua pinga un botto niente devo rompere per forza per entrare qua va bene no tutta la vita tutta la vista questo pompa troppo forte raga troppo OP volevo provare la katana in realtà però non l'ho ancora trovata ma va bene così andiamo questo sicuramente darà un botto di legno mamma mia quanto legno che darà ok che è sto rumore ah sulle macchine ok qua c'è stata gente prendo un po' di scudo buono dov'è che stanno tutti ragazzi andiamo per questa zona io vorrei andare a pushare di là in realtà eh oh qua si sparano là si sparano qua non si spara nessuno qua sembra essere free io pusherei andiamo a vedere ragazzi andiamo a vedere se ci sono delle delle macchine o qualcosa da utilizzare non lo so cos'è questo? un arco? la katana è proprio la katana io farei così ragazzi utilizziamola sta katana wow ma scusate ma rompono anche le strutture ma è OP sta cosa ma è OP no no ragazzi andiamo subito curiamoci andiamo oh tu ce l'ho lanciato ok curati veloce dai 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 franco mettete un bel like ragazzi uno dei primi in Italia a portarvi contenuto di fortnite di questo genere subito 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 bello dove si tiene la katana raga che se la tiene lì molto realistica come cosa ok c'è un tipo ah no non è un tipo ragazzi mi sembrava un tipo qua per forza bisogna rompere un po' scomoda come cosa il fatto che bisogna rompere ogni volta buono prendiamoci questa lasciamo giù la questo così ok boh proviamo subito allora perk i fucili di precisione ottengono munizioni in più non ci interessa succo schiaffoso vabbò andiamo mamma mamma mia ma che macchina è mai questa raga oddio che bella ragazzi miau buonasera ma spacca le cose no ok non spacca le niente qua sicuramente ci sarà gente buonasera sto arrivando oh c'è un tipo che mi ha lanciato shieldini proviamo la katana ok bellissima bellissima mamma mia ragazzi mamma mia che partita curiamoci subito è partita un po' lunga ragazzi ma voglio fucile a pompa mara maranza no non mi piace preferisco fucile a pompa così io c'è gente sento passi ok eccolo lì proviamo subito la katana oddio oppi noo però ragazzi oppi come roba eh mamma mia bellissima davvero bella ragazzi davvero davvero bella mi piace come season magari ve la porto volentieri in live cosa dite vi piacerebbe dei video dei video in live di questa season stupenda hanno parlato anche di qualche leak con stumble guys assurdo detto questo ragazzi io spero che il video leak vi sia piaciuto un bacione a tutti noi ci vediamo al prossimo video o una prossima live fate l'amore non fate la guerra perché si sta meglio sotto le coperte che sotto terra ciao ciao